La Puglia si riconferma metaturistica ambita dal jet set. Il tacco d'Italia questa volta ha conquistato uno degli attori di soppopera più amati dal bel paese, Ron Moss, l'affascinante Ridge di Beautiful. Il noto sex symbol che oggi preferisce la musica e il cinema alla tv è arrivato qualche giorno fa a Trani. Merito del mare cristallino, dell'eccellente e no gastronomia, ma anche di Domenico Vacca. Lo stilista delle star di Hollywood, Andriese, ma ormai da tempo tranese d'adozione, e sua moglie, l'attrice e modella Eleonora Pieroni, hanno invitato l'amico attore e la consorte a trascorrere a Trani una giornata all'insegna del relax. Dopo il pranzo al porto, rigorosamente con vista mare, una visita a Palazzo Caccetta, dove nel 2022 verrà inaugurato il primo albergo italiano dello stilista. Un hotel di lusso con 24 camere e suite, un ristorante da 100 posti, spa, palestra, terrazza panoramica per eventi e uno spazio galleria che racconterà la storia del marchio Domenico Vacca. Un progetto in cui lo stilista crede molto per rendere la sua Trani meta turistica di lusso. La giornata si è conclusa a casa di Domenico e Eleonora con tanto di passeggiata sulla spiaggia e bagno di fan per il Bell Ridge Forester.